Sì! Panciulline, che vi porta qui? Lui stava a lavorare. Tutti i Sinopoli per cui lo sa chiama lui. Lei è un'amica mia. Lui è un pittore, anche lui cerca clienti. Allora resta con noi, facciamo compagnia. Finire, finire. Michele! Adanù! Guarda chi c'è! Fermò! Lasciami perdere! C'è San Cardinale! La sua belle part! Lasciami perdere! Asciami perdere!